Musica Maurizio Chechelani del San Donato Pontino Voi quest'anno insomma vi presentate come novità insomma di questo Mediolanum Non l'abbiamo mai fatto quindi abbiamo sentito parlarne bene e quindi siamo venuti a dare la nostra tesione Adesso vediamo un attimino quante squadre riusciremo ad iscrivere Comunque in ogni caso questo è un campionato che è molto differente rispetto a tutte le altre manifestazioni Ci si gara in un clima di festa fondamentalmente e voi naturalmente anche con questo spirito siete pronti ad affrontare Allora lo spirito deve essere necessariamente questo Sono contento di aver sentito che i bambini debbano giocare E' quello che noi vogliamo fare, che abbiamo sempre fatto Quindi parteciperemo sicuramente con molta gioia Quindi è questo lo spirito giusto insomma